Vediamo un attimino quali sono i sette giochi della mente che fondamentalmente gioca il narcisista. Allora, il primo gioco mentale lo fa nel modo migliore, il narcisista ti induce, ti induce a fidare, i narcisisti ti inducono a fidarti di loro, ed è quella che ovviamente viene chiamata il lovebombing. Questo è, diciamo, da tenere presente, il lovebombing è la prima fase, no? Quindi per acquisire fiducia, perché il narcisista ha un sesto senso per, diciamo, capire quali sono le persone giuste, come acquisire la fiducia, no? Utilizzano anche spontaneamente un po' le tecniche della PNL, no? Quella del mirroring, del ricalco emozionale. Ovviamente non tutti sono narcisisti. Se una cogliona è infastilita dal fatto che vado in palestra, è infastilita dal fatto che ho amici e ho di me hobby, non è mica detto che sia un narcisista. Cioè potrebbe esserlo, ma questo non significa che sia un narcisista. È semplicemente una cogliona. E il problema non è il fatto che abbiamo a che fare con dei coglioni, è del fatto che diamo credito ai coglioni, no? Perché se a me una mi dicesse, non puoi andare in palestra, non puoi vedere i tuoi amici, non puoi fare quello, in tempo zero l'ho catapultata fuori dalla minchia. Perché dobbiamo avere questa capacità, no? Invece tutti quelli che hanno, ad esempio, il complesso del condizionamento, restano condizionati. Ecco qua la maestra, la maestra Wormall che fa la maestra a mettere la pagialla ai bambini. Stavo dicendo, questo è un'altra cosa fondamentale, no? Perché noi possiamo incontrare persone stupide, persone che ci dicono cosa devi fare, cosa non devi fare. Chi sono quelli che accettano, no? Perché, come dire, la cosa normale sarebbe se una persona ti dice non puoi far questo, non puoi far quello, dici vaffanculo, arrivederci e grazie. Anzi, dici proprio vaffanculo, senza neanche dirgli arrivederci e grazie. Ma invece tutti quelli che hanno il complesso del condizionamento, infatti vogliono un po' parlare del complesso del condizionamento. Il complesso del condizionamento, nel complesso del condizionamento, diciamo questo, che chi ha il complesso del condizionamento tende a farsi condizionare. Cioè ha talmente tanta paura di farsi condizionare che si farà condizionare. E che cos'è il complesso del condizionamento? Beh, diciamo che in una certa misura ce l'hanno un po' tutti, perché è vero o non è vero, cari carampane, cari malgascione, che quando voi eravate bambini o bambine, cioè vabbè, dovete fare una proiezione nel passato di migliaia di anni. Però quando eravate bambini o bambini, magari i vostri genitori vi hanno condizionato. Cioè tutti noi siamo stati condizionati dai genitori e dovresti fare quello. Ad esempio sulla scelta scolastica, io personalmente, lo ammetto, mi tocco anche gli occhiali, sono stato condizionato nella scelta scolastica. Ad esempio io ho fatto ingegneria e mi sono laureato in tempo, in tempo utile, cioè nel senso mi sono laureato in corso, mi sono laureato con 110, con il massimo dei voti, quindi perché la mia mente è una mente eccelsa e avrei potuto fare qualunque facoltà. Però diciamoci la verità, alla fine è stato un condizionamento quello che mi ha spinto a fare questa scelta, questo tipo di studi. Non un condizionamento coercitivo, ovviamente, perché comunque... Ma un condizionamento, diciamo, persuasivo, no? Ma ti converebbe fare quello, ma vedi questa cosa conviene. Meglio fare ingegneria che fare, che ne so, medicina. Meglio fare ingegneria che fare... Perché io probabilmente avrei fatto forse medicina o qualcos'altro. Ma comunque al di là di quello. Le persone possono condizionarci, no? Soprattutto i genitori possono condizionarci. Sì, i genitori sono... E poi, diciamo, dipende un po' dai genitori che hai. Io avevo dei genitori ottimi, no? Nel senso che mi hanno sempre supportato in tutto. Quindi non è che devo dire... Non è che devo dire, diciamo, ho avuto i genitori splendidi che mi hanno comunque supportato in tutto. E hanno espresso... Oh, un saluto ad Andrea Giovani. E esprimevano semplicemente il loro parere, fondamentalmente, no? Soprattutto il mio padre mi diceva, ma ti conviene fare... Oh, abbiamo culti abusanti, nonché la nostra vecchia amalgaciona, la vecchia amalgaciona, iscrivetevi al culti abusanti. Che, tra l'altro, con i narcisisti ci azzecca. Iscrivetevi al culti abusanti e iscrivetevi subito al mio nuovo canale sui narcisisti, che è il Libertri dei Narcisisti con Massimo Tramasco. Se volete sapere tutto sui narcisisti e soprattutto se volete sapere come buttarglielo in culo ai narcisisti. Allora, stavo dicendo... Quindi, la scelta... Tutti noi, in qualche modo, siamo stati condizionati, diciamo... Tutti noi siamo stati condizionati dai genitori a suo tempo. Più che meno. E chi ha fatto la scelta... E chi ha fatto la scelta, diciamo, contraria, e spesso ne vive i sensi di colpa. Poi è ovvio che, ad esempio, culti abusanti, c'è da essere i miei genitori, anziché lavora in radio, adesso farei la SART oppure la Ferroviera. Certo è che, comunque, sicuramente, diciamo, qualcuno non ha seguito, ma qualcuno si è stato condizionato da qualcun altro, no? Un'altra fonte di condizionamento, come dice, i culti abusanti, sono i culti abusanti, appunto. Pensate un po' ai testimoni di Genova. Chi fa parte dei testimoni di Genova, se non è condizionato. Ti condizionano pure su quanto devi scopare o non devi scopare. Pensate un attimino... Adesso mi viene in mente i culti abusanti, no? Ma non solo i testimoni di Genova, qualunque religione. Allora, esiste un mondo fatto di rompicoglioni, fatto di... Perché un conto, e se io, diciamo, seguo un sentiero spirituale, decido liberamente. Ma liberamente, ad esempio, nel buddismo non c'è nessuna... Nel buddismo non c'è nessun vincolo, nel senso che, sì, ti dicono... Ti danno delle indicazioni, ovviamente, ma tu non è che sei... Ti buttano fuori dal, come dire, se tu non segui le indicazioni. Nessuno ti controlla. Direi che anche, forse, nella Chiesa Cattolica nessuno ti controlla più di tanto. Mentre i testimoni di Geova ti controllano, ad esempio, quanto scopi, con chi scopi, sei sposato, non devi scopare, non devi far quello, start e stop. Quello è un controllo totale della vita. Non puoi... Anzi, lo chiamano fornicare. Non chiamano neanche scopare, o far l'amore, o fare sesso. Noi i testimoni di Geova lo chiamano fornicare. Ebbè, è una setta, sì, certo, è una setta. Ma anche la religione cattolica, se tu si vai a vedere, diciamo, ti condiziona, no? Adesso parlo della religione cristiana, cattolica in generale. Che ne so, i peccati mortali, i peccati veniali, i cazzi e mazzi, insomma. Ma, insomma, c'è pieno di gente che ti vuole condizionare nel mondo. E ovviamente, chi saranno quelli che si fanno condizionare di più? Si fanno condizionare di più quelli... Si fanno condizionare di più quelli che sono, diciamo, che sono stati condizionati da bambini. Perché se no, ai cari testimoni di Geova, non ci servono neanche i culti abusanti. Li manderesti a fanculo in prima istanza. Quindi, potremmo dire che, da un certo punto di vista, siamo in una cultura narcisistica. Ma pensate anche ai tempi odierni, no? All'oggi. Oggi ti vogliono condizionare a fare il laudato siero, ad esempio, no? Per carità, ognuno, secondo me, deve fare che cazzo vuole. Ma è il condizionamento a utilizzare il laudato siero che è un condizionamento che, secondo me, non è il fatto nel farlo e non farlo. Io potrei anche essere d'accordo nel farlo, per dire, il laudato siero. Ma il laudato siero, diciamo così, non me lo devono imporre. Deve essere una mia libera scelta. Mi devi proporre, c'è questo. Invece questo è un condizionamento coercitivo, no? Perché se tu non ti fai il laudato siero, avrai difficoltà a lavorare, avrai difficoltà, diciamo, avrai difficoltà a far questo, avrai difficoltà a far quello, no? Eh, la libertà è sempre, diciamo, invece, invece al centro, no? Della nostra, dovrebbe essere al centro della nostra vita. Quindi, non prendetevela solo con i narcisisti. Esistono anche politiche narcisiste. Esistono anche, esatto, non lo fo' per piacere mio, ma per il voler di Dio. Ma sì, ma ognuno può fare anche la terza, la quarta, la quinta, ognuno può fare quello che vuole. Si può impiantare, diciamo, anche, come dire, il siero costantemente, no? Cioè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma, secondo me, il condizionamento è nel costringere le persone a far qualcosa, no? Perché tu non vai a inquinare nessun altro. Ma comunque, questo è un altro, è un altro discorso, no? Sono condizionamenti coercitivi questi. Perché i condizionamenti possono essere manipolativi o coercitivi. Ad esempio, il narcisista utilizza sia i condizionamenti coercitivi che manipolativi. Che differenza c'è tra il condizionamento coercitivo e manipolativo? Beh, ad esempio, il genitore che dice al figlio, che dice al figlio, se non scegli questo tipo di studi, io non ti darò più da mangiare. quindi ti coercizzo, no? Se non fai laudato siero, non lavori. Ti coercizzo. Ti sto coercizzando, no? Se non fai laudato siero, non lavori. Se non fai laudato siero, non puoi far questo, non puoi far quello, non puoi far quell'altro, no? Se mi lasci, non vedrai più i nostri figli. E questi sono tutti i condizionamenti coercitivi. se scopi, diciamo, se trombi, se fornifichi, se fornifichi, no fornifichi, beh, insomma, se pratichi la pratica del fornicare, ti mandiamo fuori, ti mandiamo fuori dalla, ti mandiamo fuori dalla nostra congregazione, no? Ti disassociamo. E allora, ti stalkerizziamo, ti pratichiamo ostracismo nei tuoi confronti. Ecco, queste sono tutte manipolazioni coercitive. Esatto, la finestra di Overton, quello che tra un po' era immorale diventerà legge. La finestra di Overton è qualcosa di interessante, La cosa è graduale e ti, diciamo, e ti condiziona, no? Ecco, il silenzio punitivo, invece, quello è un condizionamento ma manipolativo, non è coercitivo, perché io non è che dico sto zitto, il condizionamento manipolativo è quello che, diciamo, invece, io lo pratico analogicamente. ad esempio, non mi faccio più sentire, non ti parlo, ma ufficialmente non ti dico niente, faccio delle cose con i fatti in modo tale che tu possa crearti nella tua mente un'associazione causa-effetto dove la causa è, diciamo, la causa è la causa e l'effetto è quello che tu vai a subire, no? Quindi, è il narcisista utilizza proprio questo, non nella prima fase, ma nella prima fase il narcisista ti induce a fidarti di lui, ti induce a fidarti di lui e quindi il narcisista ti suggerisce, no? fa love bombing, inizialmente, però, inizia già a fare un po' di coercizione e inizia a fare già un po' di manipolazione, in che modo? Beh, perché il love bombing di fatto è una manipolazione, no? È praticamente, come possiamo dire, è praticamente il concetto di manipolazione, diciamo, indotta da love bombing, nel senso di rinforzo intermittente. Quali sono le prime manipolazioni, no? Perché qual è il primo gioco mentale del narcisista che avviene attraverso il love bombing? Non è che ti manipola coercizzandoti, diciamo così, neanche facendoti vivere il senso di colpa. Nella fase iniziale ti fa love bombing, però poi se tu non fai quello che lui in qualche modo ti ha fatto capire che vorrebbe che tu facessi, fa come dice ad esempio la nostra vecchia Malga Shona culti abusanti, pratica il silenzio, si distacca, ti fa vivere l'assenza, prima ti ha dato e poi ti toglie. E quindi crea un condizionamento, quello che Bandura aveva chiamato il condizionamento operante, no? Il condizionamento operante di Bandura è quello, ogni volta che tu fai un comportamento spontaneamente, tra virgolette, fai un comportamento che a me va bene e ti gratifichi in qualche modo, ogni volta che tu fai un comportamento, metti in atto il comportamento che a me non va bene ti penalizzo. Ma la penalizzazione potrebbe essere anche semplicemente l'assenza della gratificazione, cioè non ti do più quello che ti ho dato. Avevo fatto l'off-bombing, ti avevo messo sull'altare, ti avevo creato un vitello d'oro e adesso non lo faccio più. E quindi tu senti condizionato, soprattutto quelli che hanno vissuto il condizionamento. Quindi il primo gioco mentale dei narcisisti è proprio quello dell'indurti, affidarti di loro attraverso il mirroring, il ricalco, il love-bombing e il rinforzo intermittente perché praticano anche il rinforzo intermittente. Ora, come buttargli nel culo al narcisista quando ti fa questo? Beh, tu devi cogliere che ti sta facendo love-bombing e allora un modo per buttargli nel culo è non essere mai soddisfatto. Eh, vabbè, ma tu hai fatto solo questo. Comunque, come diceva, intanto vi ricordo due cose. Una, che potete iscrivervi al canale e a questo canale qua Felicità Benessere e potete anche abbonarvi cari barboni che siete all'ascolto, cari barboni e barbone che siete all'ascolto potete tranquillamente abbonarvi, costa meno di un euro quindi abbonatevi pure cari barboni e care barbone all'ascolto potete tranquillamente abbonarvi, costa meno di un euro, date un sostegno al canale quindi abbonatevi barbone o barboni morti di fame potete abbonarvi entrate in chat e potete tranquillamente chattare con persone interessanti come Green Apple, Roxy Rosa, Ottavio Panzeri, Luca e poi e poi cazzi e mazzi insomma Vin Dreams, altro Maschio Alfa, Betty Cotic, insomma vedete Roxy Rosa, Noemi Puglia, vedete entrate in chat no, Stella Marina, la nostra vecchia Malgashona, Culti Abusanti, Andrea Giovani, Top Andrea Giovani, una persona molto formata, Green Apple e poi insomma tutti gli altri che ci sono, che vedo, naturalmente potete interagire con me e quindi abbonatevi, costa meno di un euro, care barbone che siete all'ascolto e che non siete abbonate, siete in 61, abbonatevi e non rompete i coglioni, anche warm all, poi detto questo invece potete iscrivervi anche al mio nuovo canale, non il mio nuovo canale, questo è gratuito, all'iscrizione, tutto, cosa zero, che è proprio per sapere tutto sui narcisisti di cui sto sto diciamo postando qua, ecco abbonatevi al corso della mascherina e poi non mettetevi la mascherina, tanto da domani mi sembra non serve neanche più mettere la sacrazza di mascherina per cui spendete quest'euro morte di fame e morti di fame abbonandovi al canale, ma andiamo avanti, allora, quali sono, qual è la seconda fase? Beh, diciamo che attraverso il love bombing il narcisista o la narcisista, perché ricordiamoci che ci sono anche le narcisiste donne e si annoverano in due tipologie le narcisiste donne, la narcisista suora e la narcisista zoccola, che sono due tipologie di narcisiste, donne sono narcisista suora e narcisista zoccola, non so, tu se pensi di essere narcisista, pensi di essere narcisista suora o narcisista zoccola? Non lo so, ad esempio, vedete un attimino, la sera il mito, il mito di narciso, sì, sì, il mito di narciso è interessante, finisce male, ovviamente il narciso muore, ma non importa, comunque, la narcisista suora e la narcisista zoccola e poi esistono altri tipi di narcisisti, ma cominciano ad avere, oh, vedete che abbiamo Clamac, diamo benvenuto in livello 2, addirittura, Clamac, bene, livello 2 vuol dire che Clamac è addirittura sul livello 2, bene, bene, Clamac ha dato il buon esempio, vecchia barbone che siete all'ascolto, quindi abbonatevi, abbiamo Clamac che è appena entrata al livello 2, bene, bene, muore perché cade, cade, cade nell'acqua, comunque stai zitta, warm all, allora, andiamo avanti, come fanno, la seconda fase del narcisista è quella che comincia a prendere il sopravvento su di te, cioè il narcisista comincia a prendere il sopravvento su di te perché nel momento in cui tu inizi a fare delle cose che lui vuole e inizia a gestire la tua vita, inizia a prendere il sopravvento su di te, un saluto anche alla vecchia Aliana Dami e purtroppo anche i culti abusanti, come dice la nostra culti abusanti, prendono, ciao Clamac, anche i culti, ciao Ilaria, anche i culti abusanti prendono il narcisismo, prendono il sopravvento su di te, perché il momento in cui tu per scopare devi chiedere permesso all'anziano della congregazione del testimone di Genova che non ti dà il permesso di scopare se non sei sposato e poi magari se sei sposato, che ne so, devi solo farlo per procreare, che faccio un esempio, ebbè, quindi a quel punto lì la tua vita è una vita di merda praticamente, è una vita di merda, cioè le persone condizionano, cioè le sette condizionano, state attenti a non farvi condizionare, ci sono, perché è un conto e se uno ti vuol persuadere, no? Io ti dico quella è la mia versione, poi sono cazzi tuoi, se ti va bene, va bene, se non ti va bene, a me non me ne frega assolutamente un cazzo, non è su interesse, ti dico ad esempio Barbona, abbonati al canale perché costa meno di un euro, ma non è che ti coercizzo nell'abbonarti al canale, ti dico Barbona, abbonati al canale, poi se tu vuoi restare Barbona e non abbonarti al canale, non abbonarti, a me non è che mi cambia la vita, ma è semplicemente una persuasione, oppure uno che ti dice, secondo noi, come nel buddismo, dovresti avere, per dire, nel buddismo dicono una vita sessuale diciamo corretta, o una retta via, l'ottuplice sentiero, non rubare, non uccidere, non avere pettegolezzi, insomma, sono la retta via, sono l'ottuplice sentiero del Buddha, ma non è che nessuno ti coercizza, non è che tu non sei accettato in un tempo buddista se sei uno che va a mignote, è un fornicatore, eccetera, appare più la prima, vabbè, ma comunque, il discorso di fondo è che il testemone di Geova è, io, non è che ce l'ho tanto, cioè, non credo, come dire, poi, è ovvio che c'è una controcoercizione, adesso parliamo di testemone di Geova, è ovvio che Putin, in Russia, ha scelto una linea dura, forse è eccessivamente dura, no? Se sei il testemone di Geova, Genova finisce in galera, non lo so io, questo se è giusto, se non è giusto, quello sembra una controcoercizione, se dici bonazza, viene a vedere, mentre ti racconta una storiella, mi abbono in tutti i tuoi canali, se dici bonazza, viene a vedere, mentre ti racconta una storiella, che vuol dire, se dici bonazza, viene a vedere, mentre ti racconta una storiella, ma non ho capito, ah, è il vincolo, mi ha messo il vincolo, ah, mi ha messo il vincolo, eccolo, vedete, Noemi Puglia, ma mi ha messo un vincolo analogico, perché non è che mi sta ricattando, se dici bonazza, viene a vedermi, mi ha detto, hai raccontato una storiella, no? È una sorta di vincoletto, un vinculetto, no? Però io non cederò, perché se fosse veramente una bonazza, lo direi senza problemi, purtroppo Noemi Puglia è brutta, non ci possiamo fare niente, quindi ci spiace, ma poi comunque ogni scarafone è bella mamma sua, per cui come diceva qualcuno, anche tu sarai bella per qualcuno, Noemi Puglia, non ti preoccupare, per tua mamma sarai sicuramente fantastica, o abbiamo farfallina 71, bene farfallina, arrivo come un lampo, e arrivo come un lampo, allora andiamo avanti col discorso, poi abbiamo che un'altra cosa che fanno i narcisisti, è intanto l'unica, quando loro cominciano a stabilire il successo, il sopravvento su di te, per buttargli in culo praticamente, quello che devi fare è iniziare a dirgli, logicamente che farai una cosa, e poi ne fai un'altra, con i narcisisti tu devi praticamente dire, signor sì, signor tenente, poi ti fai i cazzi tuoi, fai esattamente il contrario, questo li destabilizza, perché da un lato gli dà la gratificazione logica, del fatto, io faccio tutto quello che vuoi, ma poi analogicamente fai i cazzi tuoi, come ad esempio con i tesi moni di Geova, se volete andare nei tesi moni di Geova, andate pure, gli dite che non fornicate, gli dite che fate tutte le cose, e poi dopo fornicate con chi cazzo volete, scopate come delle zoccole avanti e indietro, e davanti e indietro diciamo, e non ve ne fottere niente, però poi la tesi moni di Geova dici, no io sono, io non trombo, non faccio niente, poi dopo ne fai, ecco questo è un modo per destrutturare il narcisista, perché il narcisista, anzi ti fai vedere tutto lì, e poi fai esattamente il contrario, questa può essere una strategia che vi suggerisco per buttare in culo al narcisista, cioè fare tutto il contrario, di quello che gli dite, e praticamente lo destrutturi il narcisista, lo destrutturi praticamente perché lui non riesce a capire, non riesce a capire, il narcisista non riesce assolutamente a capire. La terza cosa che fanno i narcisisti è instillare delle paure dentro di te, iniziare, instillare delle paure dentro di te, cosa vuol dire? Beh, i testimoniani di Geova di Genova ti instillano, oh brava, brava, Clamac, prendete esempio da Clamac, prendete esempio da Clamac, un'altra cosa che fanno, i testimoniani di Geova, non so se c'è l'inferno, no, forse non c'è l'inferno del testimoniani di Geova, però praticamente dicono che se tu fornicchi e se tu fai altre cose, ti dissolverai, no, mi sembra, non avrai più il regno dei cieli, o il regno, il regno, l'avvento del regno non sarà più tuo, ti dissolverai nel nulla, no, perché i narcisisti, i narcisisti, sì, i testimoniani di Geova, mi sembra di ricordare delle mie reminescenze di studi sui testimoniani di Geova, non credono nell'inferno, non ti dicono avrai un inferno se fornicchi, ma ti dicono che ti dissolverai nel nulla e sparirai praticamente, e sparirai completamente nel nulla. Il mio ex mi ha sbloccato di brutto, brava, brava, ecco la nostra culta abusanti. Quindi questo è un qualcosa che devi imparare a fare. Quindi non cedere alle paure, perché un qualcosa che fanno i narcisisti e instillano delle paure in te. La paura dell'abbandono, la paura di essere abbandonata, la paura di essere disestimata, insomma, fanno leva su tutte le tue paure. Quindi è fondamentale, questo, non c'è nulla di più ipnotico della paura, ma pensate ad esempio alla tortura. Il dolore e la tortura sono le cose più ipnotiche che ci sono, perché una persona che ne so, torturata nel periodo dell'inquisizione, diceva, sapendo che sarebbe finita il rogo, ma voleva uscire da quella storia di torture, diceva di andare a cena con Satana tutte le sere, di incontrare il diavolo, di essere lui stesso il diavolo, per dire, perché il dolore ti fa dire tu quello che vuoi. E questo è un'altra cosa importante che bisogna tenere presente. Non bisogna cedere alle paure, le paure, non dobbiamo cedere alle paure. Se tu continui a resistere, ti suggerisco di farlo, un'altra cosa che inizieranno a fare i narcisisti, prima o poi, è svegliare le scimmie volanti. Le scimmie volanti, le scimmie volanti, oh, un saluto a Giulia Mancini, grande Giulia. Chi sono le scimmie volanti? Le scimmie volanti sono tutte quelle persone, non ho la chiave, perché non ti ho ancora chiamata, Clamac? Non hai la chiave, ma adesso ti chiavo, non ti preoccupare, adesso mi chiavo Clamac. Adesso ti ho chiamata, Clamac, hai sentito? Ho fatto una chiavata veloce con Clamac. Prova a scrivere, adesso vedrai che c'è la chiave. Ti ho chiamata, ti ho chiamata in fretta, l'ho chiamata in due secondi. Allora, stavo dicendo, quindi, tornando al discorso di prima, utilizzano le tue paure, no? quindi utilizzano le tue paure, è ovvio che queste paure che utilizzano i narcisisti fanno, e poi iniziano a sabotarti alle tue spalle, utilizzando ad esempio, utilizzando ad esempio le scimmie volanti. Chi sono le scimmie volanti? Non sono le scimmie volanti, sono tutti gli amici del narcisista, sono tutti gli alleati del narcisista, che si crea è per denigrarti, per colpirti, per affondarti. L'utilizzo delle scimmie volanti è tipico per quanto riguarda i narcisisti. Quindi anche lì devi prepararti, perché sarai attaccato dalle scimmie volanti, sarai attaccato dalle scimmie volanti. E questo è un qualcosa di importante. Esatto, come dice Liana Dami, i narcisisti ti vogliono rovinare la vita e sono pure felici. E questo purtroppo, o per fortuna, è una delle cose che noi dobbiamo capire nei narcisisti, perché i narcisisti ti vogliono di fatto rovinare la vita e te la rovineranno, se tu te la lascerai rovinare. Te la rovineranno, se tu ti lascerai condizionare da quello che fanno i narcisisti, da quello che dicono. Quindi la vera forza è nel non lasciarsi condizionare, nel non lasciarsi fregare dai narcisisti. Quella è la vera forza che tu devi mettere in atto. Non temere, non avere paura. Le paure sono veramente un qualcosa di pazzesco che ti distrugge, che ti rovina fortemente la vita. Quindi avere paura. E poi un'altra cosa che fanno, diciamo, trovano tutti i tuoi difetti e cercano di usarli contro di te. Cioè il narcisista ti va a cercare tutti i difetti che tu hai e li usa contro di te però. Cosa vuol dire che usa i tuoi difetti contro di te? Beh, semplicemente che praticamente se tu hai un difetto o un qualcosa, lui lo evidenzia, no? Se tu hai, che ne so, cerca in qualche modo di condizionarti e di farti soffrire colpendoti proprio sui tuoi difetti, sulle cose, sulle tue insicurezze, no? Ad esempio. Che per carità non c'è niente di male, è anche una strategia di seduzione. Però la cosa importante è sapere che il narcisista si comporta così. Tra l'altro si comportano anche da vittima molti narcisisti. Gli amici del mio ex mi adoravano e non vedrò che io mi trasfessi là. Poi non c'è altro ne c'è questo problema di contatto. Beh, diciamo, non è... Allora, un narcisista normalmente ha delle scimmie volanti, ma dipende dal tipo di narcisista. Io sto dando indicazioni generali che poi fosse un narcisista o meno non è tanto importante. Se fosse un narcisista o meno non è tanto importante. Il problema è che una persona, se ad esempio è fortemente possessiva, fortemente gelosa, sono sempre relazioni difficili. Cioè, i narcisisti sono il non plus ultra della, diciamo, della relazione negativa. ma anche una persona estremamente gelosa, anche una persona estremamente possessiva, anche una persona estremamente aggressiva, anche una persona estremamente violenta, diciamo così, o non estremamente, insomma, sono tutte situazioni che non vanno bene. Beh, anche persone che ti fanno vivere i sensi di colpa. Io ho il capello bianco che lei, lei ripetava all'infinito, nemmeno le pochie li vedeva. Eh, vabbè, e tu dille che lei ha i peli bianchi da un'altra parte, non so, oppure, beh, certo, questa è una forma, poi, voglio dire, beh, ecco, quella è una cattiveria gratuita, no? Perché il capello bianco, come se uno, il capello bianco e il capello nero è un'evidenza, no? Quella, non è che, quindi, ecco, già una persona deligrante in questo modo, io la manderei a fancura, in tempo zero, perché l'unico modo, poi, per avere le persone che, diciamo, ti trovano i difetti e li usano contro di te, manda a fanculo subito, la metti in un paradosso, senti, ma che cazzo vuoi? Se vuoi, mi tieni con i capelli bianchi, se non vuoi, te ne vai fuori dei coglioni, perché così la metti in un doppio legame, no? Perché lei poi dopo non ti potrà più dire ai capelli bianchi, tu prova a dirle, la prossima volta che mi dici che hai i capelli bianchi te ne vai cercare uno che non ha capelli bianchi e io mi tolgo dei coglioni, perché io non sto con una donna a cui non piaccio perché non ho i capelli neri, diciamo così, o i capelli bianchi, e gli fai subito una contramanipolazione. Ai narcisisti o ai manipolatori bisogna agire attraverso la contramanipolazione, che è la cosa più importante. e poi la settima regola e qua state attenti perché sturatevi le orecchie, vecchi campani, intanto dico a tutti i barboni che sono 90 barboni che mi stanno seguendo o barbone, abbonatevi al canale, no? Spendete un euro, 90 barboni, meno di un euro, vi abbonate al canale, potete entrare in chat e potete divertirvi in chat, care barbone o barboni, 91 barboni, 92, stanno aumentando i barboni, ma invece se volete fare cose gratuite potete iscrivervi al mio nuovo canale, questo è gratis, ed è il canale proprio per imparare tutto sui narcisisti, il mio nuovo canale Liberty dei narcisisti con Massimo Tamasco che ti aiuterà a, diciamo, a conoscere a fondo i narcisisti, ti aiuterà a capire come tolti dei coglioni, come disinnamorarti, perché se ti innamori del narcisista praticamente sei vincolato, vi ho messo il link lì, ve lo rimetto di nuovo, l'iscrizione è completamente gratuita, quindi andatevi a iscrivere al mio nuovo canale, Liberty dei narcisisti con Massimo Tamasco, credo che a mille siamo quasi arrivati, voi siamo già arrivati a mille, credo, che è un record abbastanza, perché mille in tre giorni, è andato da tre giorni, però vogliamo farlo crescere molto di più, vogliamo arrivare a duemila, mille al giorno, mille, non più mille, siamo a mille e undici in questo momento, bene, 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 mille e undici, eh, esatto, bravo, io avevo detto che non andavo bene e potevo andare e dopo un po' è andata, bene, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni, fuori dai coglioni, voi accendo un cera alla madonna, come dice la nostra, la nostra green apple, accendo un cera alla madonna, allora, l'ultima cosa, storatevi le orecchie, cari malgascioni, malgascioni, l'ultima cosa che fanno i narcisisti è trasformano la tua vita in un elenco di regole e di obblighi, trasformano la tua vita in un elenco di regole e di obblighi, stati attenti perché nel momento in cui i narcisisti trasformano la tua vita, brava Giulia, eccola qua, brava Giulia, nel momento in cui i narcisisti trasformano la tua vita, tanto saluto Giulia che io ho conosciuto Giulia a Roma e forse anche a Milano era venuta Giulia, non mi ricordo, a Milano sei venuta ai corsi di Milano ma sicuramente è venuta ai corsi a Roma è una ragazza giovane, venti qualcosa anni, 22-23 anni, giovane e carina e la nostra Giulia comunque stavo dicendo è interessante quindi è interessante quindi agire in questo modo, no? Non accettare le regole e gli obblighi che il narcisista ti impone perché altrimenti la tua vita diventa un insieme di regole e di obblighi e quindi non puoi più farci assolutamente niente, alza le spalle, cosa vuol dire alza le spalle? alza le spalle, si vedono sugli occhiali e alza le spalle, ho abbassato qua, cazzo si vedono sugli occhiali, ma te perché sei cieca, sei cieca? Quindi io questo lo consiglio veramente, non accettare mai, non accettare mai le regole e gli obblighi di nessuno, non pensare mai che qualcuno se ti dà delle regole e degli obblighi tu devi accettarli, fatevi i cazzi vostri, dovete essere liberi, assolutamente liberi, liberi, completi. Ecco perché piano piano il narcisista utilizza anche questo trucco, trasformando veramente la tua vita in una vita di merda. Quindi questi sono i sette giochi della mente che gioca il narcisista per